Veniamo da una bella prestazione contro la prima della classe, una squadra come abbiamo già detto più volte che veniva molto gasata dagli ultimi risultati. Noi siamo stati bravissimi a fare una grande prestazione, però siamo consapevoli, in questa settimana ci siamo messi giù, ci siamo confrontati e sappiamo quali sono le caratteristiche che determinano le grandi prestazioni e quindi domani dalla squadra mi aspetto di rivedere la stessa determinazione, lo stesso coraggio, la stessa concentrazione e la stessa attrattis pensieratezza che ci ha contraddistinto in una partita difficilissima come quella di Frosinone. L'abbiamo già affrontata due volte, abbiamo detto già diverse cose, la continuità che ha avuto questa squadra nel tempo, perché è una squadra che viene da una promozione, però ha allestito un gruppo sicuramente in grado di poter essere protagonista in questo campionato come stanno dimostrando di essere e quindi la continuità sicuramente è una loro qualità e una squadra che ha perso pochissimo, penso una delle squadre che abbia perso meno in questo campionato e che in casa si è sempre fatta rispettare, quindi sappiamo che andiamo ad affrontare un avversario di valore, ma dai miei ragazzi mi aspetto una grandissima prova perché siamo consapevoli del fatto che si affrontano due squadre che hanno quasi gli stessi punti e che in questo momento vorrebbero provare a raggiungere lo stesso obiettivo, quindi domani saremo curiosi di guardare quali tra le due sarà più affamata perché sicuramente quella che lo sarà uscirà dal campo con risultato positivo. A parte Bascia che è squalificato e che purtroppo non sarà dalla partita, sarà fuori ancora per questa partita Sisse che sta recuperando il suo problema e mi auguro di averlo a disposizione a partire dalla prossima e Conti andrà a giocare con la primavera e Cassani e Morleo rimarranno a casa dopo che si sono allenati bene tutta la settimana con noi e ovviamente rimarrà fuori anche Salzano, ma questo penso sicuramente sarà il light motive da qua alla fine del campionato. Sono del parere che ogni partita sia un test difficile, noi purtroppo a volte l'abbiamo constatato sulla nostra pelle, questa partita le qualità dell'avversario rendono ancora più importante la sfida, più difficile e sicuramente in questo momento mi auguro che tutti quanti siamo consapevoli di quanto possono essere importanti le partite che stanno arrivando, di quanto è determinante ed importante fare una grande partita in un campo difficile come quello di Cremona. Ho detto poco fa, si affrontano due squadre forti e le caratteristiche che determineranno la partita sicuramente sono quelle della determinazione e della fame e sono curioso di vedere quale tra le due ne avrà di più perché sono convinto che chi riuscirà ad avere di più porterà a casa il risultato. A me piace andare avanti col lavoro e vedere che la squadra evolve sotto tutti i punti di vista perché non si può pensare di fare una partita in un modo dall'inizio alla fine, che sia un modo propositivo o che sia un modo rinunciatario. Entrambi penso siano impossibili da vedere in un campionato di calcio equilibrato come quello a cui partecipiamo. Per me, come ho già detto tante volte, alla base c'è di riuscire a fare quello che siamo stati in grado di fare domenica, cioè un'ottima fase difensiva, una partita di grande collaborazione tra compagni e tra reparti e sicuramente con queste basi poi è più facile riuscire ad esprimere il gioco che questi ragazzi hanno le qualità per poter esprimere. Sicuramente è un ragazzo che ha le qualità per poter fare bene anche da esterno alto, come ha già dimostrato nelle cinque partite che ha fatto da titolare nel esterno basso, quindi per me è una prerogativa di riuscire a guardare i ragazzi in diverse posizioni. Non sarà mai un limite quello di potersi muovere nel campo e poter occupare varie postazioni. È sicuramente un valore aggiunto che nel tempo più ragazzi sono in grado di poterlo fare, più riusciamo a diventare forti. Non era facile per Javan continuare ad avere quel ritmo e quell'intensità che ha avuto all'inizio in un periodo in cui è stato sollecitato tantissimo perché per merito suo ha avuto su di sé tanti occhi puntati addosso, tante frasi sui giornali e quindi non è facile riuscire a mantenere la concentrazione. Proprio per questo in un momento mi è sembrato giusto dargli uno stop, farlo recuperare, fargli capire bene quello che poteva essere il suo futuro e una volta capito il suo futuro siccome è un ragazzo tanto intelligente oltre ad essere un ragazzo molto forte si è rimesso all'opera e ha dimostrato sabato le qualità che aveva dimostrato in passato e mi auguro che continuerà a farlo sapendo che è consapevole del fatto che non sempre si può giocare bene ma quando si ha l'atteggiamento e l'attitudine a volerlo fare sicuramente è già un'ottima base. Noi non vogliamo rispondere a nessuno, noi vogliamo lavorare e provare a fare meglio quello che stiamo facendo e come ho detto poco fa provando a trovare diversi giocatori che possano occupare varie zone di campo e quello per noi deve essere solo un punto a nostro favore sapendo però anche che la continuità nel tempo di determinate scelte può dare anche una crescita maggiore alla squadra. Ho tanti ragazzi a disposizione quindi il fatto che Luca possa giocare anche a centrocampo per noi è un valore aggiunto, non ho ancora deciso chi giocherà a centrocampo però sicuramente sarà un ragazzo della squadra che si allena tutto il tempo con noi e che saprà benissimo cosa fare e quando farlo.